io allora in realtà io la mia casa l'avevo già fatta perché la mia casa l'avevo fatta su un altro sito ed ero corvo nero tra l'altro io infatti ho il mio avatar fighissimo a tema corvo nero perché appunto io risulto essere corvo nero il patronus l'avevo fatto e se non mi ricordo male ero uscito come topo di campagna avevo tipo il topo di campagna se non mi ricordo male la bacchetta invece non l'ho mai fatta la bacchetta invece non ho mai fatto nulla quindi non so effettivamente comunque io voglio fare innanzitutto esatto andiamo al sorteggio allora scegliamo luna o stelle ovviamente stelle easy allora se ti dovesse attirare che 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 odore avrebbe allora il mare casa il camino o diciamo carta diciamo la carna sicuramente odori di casa quale dei seguenti trovi più di quali quali seguenti trovi più difficile affrontare allora solitudine noia rabbia essere ignorati assolutamente essere ignorati è la cosa con cui avrei più fastidio uno dei tuoi compagni di classe ha vabbè ha citato comunque ha utilizzato trucchi dentro Hogwarts per un esame battendoti 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 al secondo posto il professore è sospettoso di quello che è successo ti porta da parte dopo la lezione e ti chiede se sai se uno dei tuoi ok allora di al professore la verità quindi se il mio compagno è preparato alla vittoria grazie al cheating merita di essere scoperto è questo effettivamente ah qua addirittura neanche aspetti che il professore ti chieda la verità ma sei tu che praticamente appunto lo vai a dire direttamente all'insegnante prima che comincia e poi qua menti assolutamente no beh io sicuramente sarei uno di quelli che sono indeciso in realtà perché io sono uno di quelli che in realtà è per la correttezza quindi non so se però dirglielo prima o dirglielo solo se il professore mi chiede però conoscendomi io probabilmente glielo direi prima dopo dopo che sei morto come vorresti che la gente ricordasse il tuo nome chiedere di più a chiedere più storie delle tue avventure mi manchi però sto ridendo ecco pensare con ammirazione ai tuoi achievement non mi interessa quello che la gente no questo qua assolutamente quale dei seguenti vorresti studiare vorresti studiare con più attenzione comunque merpeople centauri werewolves vampires goblin trolls o ghost beh sicuramente studierei fantasmi if you were attending awards which pet ah ok quale animale eh questa è carina questa è carina perché in realtà io sarei indeciso tra il gufo e la rana i gatti non di sicuro no no assolutamente gatti skip totale però i gufi sono più utili uuuuh snowly hall fighissima assolutamente snowly hall white or black black tutta la vita the sorting card is ready to make its decision vediamo cosa mi butta vediamo se è nel mio destino essere corvo nero perché eh eh niente ragazzi c'è poco da fare c'è poco da fare eh è inutile c'è poco da fare eh oh niente corvo nero fisso c'è c'è poco da fare corvo nero fisso il cappello parlante ha parlato e non sei da solo zero della tua classe sono stati ah beh godo va bene eh ragazzi niente c'è poco da fare io sono sono un fierissimo corvo nero ma ve l'avevo detto eh cioè palesemente sono un corvo nero non ci posso fare nulla eh e a me piace un casino tra l'altro la classe dei corvo nero mi piacciono un casino allora andiamo a vedere il mio Patronus allora mi ricordo che mi era uscito il topo di campagna in realtà mi ricordo che mi era uscito il topo di campagna ah qui c'è la musica addirittura madonna si vola e allora aspetta devo togliere la musica vabbè niente la tengo wow il Patronus ok una proiezione devi rispondere in fretta allora scopri il tuo Patronus poi eh il tuo Patronus una volta ah ok vai con il tuo istinto ok cominciamo rilassati pensa al tuo ricordo più felice sicuramente un sogno assolutamente shadow i sensi non fanno per me io sono uno molto riflessivo oh attenzione un kebab no una coda o un'ala why o who no il perché allora a me era uscito in realtà il topo di campagna eh listen watch no watch ok a me era uscito il topo di campagna mi ricordo in un altro test però non in questo in un altro test mi era uscito il topo di campagna click or drag to release your Patronus ah no il gatto oh il Patronus che è un gatto però ginger però ginger però ginger però è ginger attenzione cosa dice il tuo Patronus di te no io i ginger dico intendo un'altra categoria ginger allora il più popolare delfino ah fox san bernardo unicorno snowly hole bello mi sarebbe riuscito avere la snowly hole top 20 dolphin sì ma dov'è il mio non c'è ma non c'è il mio ma non c'è non c'è cast oh no aspetta ma è di nuovo ah no aspetta no 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 ok no click expecto Patronus vabbè il ginger cut vabbè mi sarebbe mi sarebbe aspettato qualcosa di meglio ok andiamo a vedere la mia bacchetta invece ok trovo la mia bacchetta allora descrivi yourself come vabbè io sono abbastanza alto quindi i miei occhi sono scuri però non sono neri sono marroni i miei occhi sono brown no non lo rifaccio il quiz non ha senso cambiarlo il giorno in cui sono nato uneven sei molto orgoglioso della tua intelligenza allora viaggendo da solo in una strada deserta raggiungi un crocevia continui allora left toward the sea right toward the castle ahead toward the forest no verso il castello che cosa ti spaventa di più il fuoco l'isolation small spaces oddio tra questi probabilmente gli spazi stretti sarebbero quelli che mi farebbero più paura in una chest di artefatti magici quale sceglieresti silver dagger golden key duster battle ornate mirror glittering jewel black glove bound scroll beh una dagger eccola qua la mia bacchetta easy allora con cos'è il chestnut che è il 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 mandorlo ah il castagno poi cuore di drago 13 è vero questa qua non è centimetri sì forse sì no length 13 13 pollici questi sono i pollici 13 pollici quindi sono abbastanza flessibile beh delle centrine di bacchetta cioè vorrei dire di bacchetta